Il mio tradizionale bentrovato al pubblico di Blog Sicilia, nuovo appuntamento con Talk Sicilia, trasmissione che chi ci segue ormai conosce bene. Oggi parliamo di sanità, in particolare parliamo di cure palliative, qualcosa di poco conosciuto nonostante sia qualcosa di veramente molto importante. Lo facciamo con due ospiti che vi presento subito. Alla mia destra la dottoressa Gaetana Rinaldi che è il direttore sanitario della Samo Ollus. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Alla mia sinistra la dottoressa Maria Luisa Cutrera che è responsabile personale sempre della Samo Ollus. Grazie anche a lei per essere qui con noi. Dicevo parliamo di cure palliative e cominciamo con lo spiegare di che cosa si tratta fondamentalmente per poi entrare nel dettaglio. Un compito che affidiamo subito alla dottoressa Rinaldi. Allora cosa sono le cure palliative perché sono importanti? A dispetto del nome, perché nell'immaginario del popolo le cure palliative sembra l'inutile, quello che non serve a nulla ed è quello che fa scattare frequentemente il meccanismo del oddio è tutto finito. Beh se la vogliamo vedere dal punto di vista ovviamente di chi ha fatto un percorso, in particolare dico finora le cure palliative si sono occupate di cancro, quindi chi ha un percorso dal punto di vista oncologico sicuramente è un momento di stop importante per quelle che vengono considerate le cure attive. Parliamo delle chemioterapie, le immunoterapie, le cure biologiche e arriva un momento in cui le malattie non rispondono più. Dobbiamo fare i conti con la malattia che progredisce, con la malattia che non diventa più responsiva ai trattamenti, vuoi innovativi, vuoi tradizionali, poco importa questo. Però le cure palliative hanno la dignità di medicina, tant'è che oggi non si parla più di cure palliative generali, ma si parla di medicina palliativa. La medicina palliativa quindi in realtà prende in carico completamente i bisogni del paziente, ma non solo del paziente tema della famiglia. Quindi è un salto ancora ulteriormente diverso. Cioè abbiamo finito di occuparci della malattia, ci occupiamo della persona. Ed ecco perché le cure palliative si muovono con l'equip. Non esiste il palliativista che lavora da solo. Non può essere. Io la fermo un secondo perché voglio dire una cosa che può sembrare forte, ma di fatto credo che sia esattamente così. Fino a qualche anno fa, qualche decina d'anni fa in realtà, quando il paziente non rispondeva più alla cura, quando insomma non c'era più niente da fare, il paziente veniva abbandonato a se stesso. La sostanza è questa. La medicina palliativa cosa fa? È quella che prende in carico quel paziente che prima era abbandonato e continua a farne una persona. Scusate, sono stato forse un po' duro, ma credo che sia questa la cosa da raccontare. Infatti il concetto è che ci prendiamo cura della persona, non solo dei bisogni fisici. E la medicina palliativa ha la dignità appunto di medicina. Quindi non è più, nell'immaginario lei pensi che la medicina palliativa è uguale morfina, uguale morte. Ma non è più, non è assolutamente così. Perché i bisogni di chi non è più guaribile da una malattia, come appunto il cancro, in realtà sono tantissimi. E i pazienti frequentemente morivano da sole, le persone morivano da sole e ancora oggi ci sono delle realtà in cui ovviamente le cure palliative vanno implementate. Ci vogliono gli specialisti, quindi non è che chiunque può fare il palliativista. E l'equipe è formata dal medico, dall'infermiere, dallo psicologo, l'assistente sociale, l'OS, le fisioterapista e in alcuni setting dove è possibile ovviamente l'assistente spirituale, il logopedista o altre figure che in quel momento si ritiene opportuno. Quindi pensi un po', non stiamo abbandonando nessuno, non abbiamo lasciato nessuno a casa, ma soprattutto nessuno deve morire solo a casa perché è impensabile che questo possa avvenire. E questo nella maniera particolare mi permetta, io faccio parte di un'associazione che è la Samo Ollus, che si occupa nel dettaglio di cure palliative domiciliari perché poi i setting di cure palliative possono essere di vario livello. Abbiamo gli hospice che si occupano di cure palliative, speriamo che nascano i reparti di cure palliative e l'altro setting ovviamente abbiamo anche adesso da un poco di tempo anche nella nostra ASP ci sono gli ambulatori di cure palliative e infine ci sono i setting domiciliari in cui opera appunto l'associazione della quale faccio parte che è la Samo Ollus, che non opera solo a Palermo ma abbiamo sedi ad Agrigento, Catania e Trapani. Penso di non aver dimenticato nessun esempio. Questo è il quadro generale che abbiamo fatto. Allora partiamo da qui, intanto diciamoci che le cure palliative sono un passo in avanti della medicina, questa è una cosa che affermo io e che non mi nascondo io tra un dito, è un mio pensiero forte. Allora sempre sperando per ciascuno di noi di non arrivare ad averne bisogno, per chi ne avesse bisogno, dottoressa Cotrera, qual è la procedura per richiedere l'assistenza della Samo? O comunque in generale di questo genere di cure? Sì, il servizio... Abbiamo anche delle immagini che possiamo intanto mostrare che abbiamo girato nelle sedie della Samo, lo dico alla regia. Presso i nostri uffici. Allora sì, il servizio come dice la dottoressa è un servizio pubblico, è aperto a tutti, a tutte le fasce d'età, dai bambini alle persone anziane. Ovviamente essendo un servizio pubblico va richiesto presso la struttura pubblica, in questo caso sono le ASL, le ASL di appartenenza. Direttamente il familiare che si rivolge al medico di medicina generale, il quale essendo il medico che conosce già il paziente da parecchio tempo e ce l'ha in carico proprio come facente parte proprio del nucleo familiare, è quello che attiva il servizio tramite una richiesta. Ebbene, questa richiesta va presentata presso gli uffici delle ASL di appartenenza o presso i distretti, perché noi seguiamo Palermo e provincia, Catania, Grigento e Trapani, come diceva prima la dottoressa Rinaldi, va richiesto in tutti i distretti, tutte le province si richiede in ugual misura. Questo nel momento in cui si attiva tramite il medico di base. Esiste un'altra procedura che è quella della dimissione protetta, ovvero un paziente che è in regime di ricovero presso una struttura ospedaliera può essere inserito nel sistema delle cure palliative domiciliari tramite la dimissione. Quindi è l'ospedale che richiede all'ASP di appartenenza direttamente la dimissione, che può essere semplice o può essere complessa nei casi dei pazienti molto complicati che hanno grande necessità nel momento in cui arrivano presso il domicilio ad avere proprio un'assistenza abbastanza intensiva. Noi abbiamo due livelli di assistenza, un primo livello e un secondo livello. Il primo livello è per i pazienti che hanno un'aspettativa di vita anche fino a sei mesi. i pazienti di secondo livello sono pazienti molto più gravi che ovviamente hanno una tipologia di assistenza ridotta. Però il senso generale sia nell'uno che nell'altro è quello appunto di fare in modo che un paziente possa rientrare presso il proprio domicilio, essere curato nella propria casa, nel proprio letto, poter andare a usufruire del proprio bagno, usufruire della propria tavola. E soprattutto la cosa più importante del nostro servizio è quella di avere oltre l'equip sanitaria che si prende cura sotto il profilo sanitario del paziente, quindi con le terapie e tutte le necessità appunto terapeutiche, la cosa fondamentale in questa tipologia di lavoro è la presenza della famiglia, la presenza degli affetti che vanno supportati, come spiegava prima la dottoressa Rinaldi, vanno supportati dalla nostra equipe sanitaria che è composta da varie figure e insieme ai familiari hanno un unico obiettivo che è quello di assistere, proteggere, accudire e soprattutto accompagnare fino all'ultimo giorno di vita il paziente nel proprio habitat. Questa secondo me è la parola chiave, accompagnare, che è anche un cambiamento culturale se mi permettete il passaggio, un cambiamento culturale nel sistema di assistenza. Gattana Rinaldi che è il direttore sanitario generale della struttura, poi in una delle strutture delle varie province con il suo direttore sanitario, l'ottoressa Rinaldi è il direttore sanitario generale oltre questo, nella sua attività fa l'oncologo. Ecco, è un passaggio determinante quello dalla cura alla cura palliativa? Beh, intanto il primo passaggio importante sarebbe quello di educare noi oncologi al fatto che c'è un momento in cui bisognerà dire ai pazienti che non rispondono più alle terapie, quelli che ovviamente non rispondono perché per fortuna poi abbiamo quelli che invece transitiamo sicuramente verso le guarigioni. Per fortuna la medicina è cresciuta. Esattamente, abbiamo tante innovazioni che ci hanno portato per fortuna, le storie di tante malattie sono cambiate da quando la medicina ha fatto tanti passi. Però l'oncologo va educato, va educato alle cure palliative, va educato ad avere un progetto sul paziente perché noi la malattia la conosciamo, sappiamo la malattia come va, per cui a volte assume chiaramente dei tratti imprevedibili, però in linea di massimo la conosciamo, per cui sicuramente bisogna fare un passaggio con gli oncologi in maniera tale che si transitano il più dolcemente possibile verso le cure palliative, quindi verso l'altro gruppo che acquisisce il paziente. E sono altri professionisti che hanno la conoscenza della materia. Lei immagini per esempio nella fase più finale sintomi quali la dispnea, mi spiego scusi per la persona più semplice, la dispnea e l'affanno, tanti tumori polmonari che hanno la fase più finale della loro vita con l'affanno. Perché devono transitare verso il loro fine vita non potendo avere qualcuno accanto che ha i farmaci corretti per ridurre la sensazione di fame d'aria, la sensazione di affanno, di non poter respirare. Abbiamo il dolore, altro sintomo che va assolutamente preso in carico con farmaci molto moderni, la cui base si è la morfina, non spaventiamo a dire questo nome, ma dalla morfina dobbiamo ringraziarla perché sono venuti fuori farmaci talmente importanti e aiutano quotidianamente i pazienti sia in oncologia sia nelle cure palliative. Poi ci sono le emorragie acute che i pazienti possono avere necessità di essere aiutati e non possono andare a pronto soccorso perché a pronto soccorso non possono fare nulla, quindi vanno aiutati da questo punto di vista. Abbiamo un altro sintomo importante che è quello che chiamiamo il delirium. Quando vedete i pazienti che diventano irrequieti, mi permetta un termine siciliano, la squietezza di fine vita, che dice non riusciamo a tenerlo tranquillo, il paziente costantemente si agita, non riesce a stare tranquillo, con fabbola parla. Dico quindi c'è tutta una serie di sintomi che il professionista di cure palliative non solo conosce molto bene, ma sa anche molto bene come doverlo gestire. E ciò non è un bene solo per la persona che sta lasciando la vita, ma è un bene anche per le persone care che gli stanno lì e da accanto. Cioè sapere che ti stai prendendo cura. E infatti, quindi questa presa in carico del paziente che è a fine vita è comunque un'attività che io definisco assolutamente di civiltà avanzata, che non può essere considerata in maniera diversa. Ma per arrivare a questo abbiamo dovuto far contare, vero dottoressa Cotrera, sulle Ollus, perché poi alla fine ci sono dovute queste organizzazioni come la vostra, come la Samo, per poter creare un percorso in questo senso. Sì, allora sì, la nostra Ollus nasce già nel 1994. A Trapani abbiamo sempre svolto attività inizialmente di volontariato, perché la nostra fondatrice era a sua volta una malata di tumore che aiutava tante persone ad avere il supporto anche dell'infermiere amico, del medico amico, anche della, come diceva lei, di una persona che ti tiene la mano e che ti consola durante un momento così difficile. Da allora ovviamente è stato anche tutto normato, cioè a livello anche nazionale, abbiamo la legge 38 che appunto stabilisce, ci sono i LEA che dicono che appunto la nostra... I LEA a livelli essenziali di assistenza stabiliti per legge, lo dico sempre, lo racconto sempre perché chi ci segue non è detto che conosca anche la terminologia media, mi permetta, prego. Sì, ho fatto benissimo a precisarla perché è un livello essenziale di assistenza, cioè non esiste più una città, un paese, una regione che non abbia le cure palliative, perché sono fondamentali e ormai importantissime sul territorio. Come diceva prima la dottoressa Rinaldi, ci sono varie sfaccettature, noi abbiamo la parte del domiciliare, ci occupiamo proprio di quella, ma c'è anche l'hospice per chi non ha famiglia e per chi anche da solo che può essere accudito e curato per bene, non lasciato da solo, ecco nel suo percorso. Scusami, scusate, anche se andiamo un po' in maniera abnorme in una trasmissione, però anche per chi ha una famiglia, ma a volte le famiglie hanno un carico enorme, vengono scusami Marisa, vengono da storie in cui le loro vite sono state completamente sconvolte, non solo l'ha malato, anche i familiari e lasci il lavoro e non hai la 104 e non ti puoi prendere le giornate, te le puoi prendere e le devi recuperare e allora o si occupano di questi nostri assistenti sociali che tentano di fare avere tutto quello che dal punto di vista della normativa può ottenere il familiare e il paziente, oppure in questo caso è la nostra equipe della Samolus che contatta l'hospice di pertinenza, d'accordo ovviamente con i familiari dove per l'auto è discusso e il paziente viene trasferito in hospice dove può stare col proprio familiare e quindi lì hai un'assistenza sollevando una famiglia da quello che può essere a volte uno stress eccessivo, non siamo per forza e non dobbiamo soprattutto per forza in una fase finale di vita essere tutti bravi e sapere fare tutto. Non hai fatto benissimo Tania perché in effetti anche l'hospice rappresenta con la famiglia presente un ristoro, ecco come dicevi tu in un momento di grande confusione e di grande preoccupazione questo si presenta come un ristoro, così come tante famiglie che seguiamo noi si sentono confortate dalla nostra presenza perché sono aiutate in questo percorso che è difficile, è brutto per tutte le famiglie e soprattutto per tutte le fasce di età e con tutte le varie problematiche ma ci inseriamo noi a supporto proprio per portare avanti e dare anche noi il ristoro, è un ristoro perché si affronta questo cammino insieme andando al domicilio. Dottoressa Rinaldi, per quella che è la vostra esperienza, la legislazione attualmente che ha fatto grandi passi davanti come giustamente stavamo dicendo è sufficiente o avrebbe bisogno di fare un ulteriore passo avanti. Beh guardi io la guardo solo dal punto di vista sanitario perché è quella più brava dagli altri punti di vista. Infatti adesso la porteremo la stessa domanda anche a lei. Non mi faccio il belagare in campi che non sono brava però una cosa sicuramente mi sento di dire, la legge 38 risale al 2010, sono passati 13 anni, basterebbe farsi una piccola rilettura di questa legge tutti quanti e semplicemente di attuarla perché lei immagini che prima che abbiamo potuto attuare questa legge acqua sotto i ponti ne è passata veramente tanta e mi viene da dire dall'altro lato tanta gente è andata via senza avere l'adeguata assistenza di cure palliative in generale, lasci stare se è domiciliare o meno. Noi ci copiamo di domiciliare quindi pensiamo al domiciliare. Però per fortuna oggi tante cose sono anche cambiate. Sì possiamo affinare se vogliamo ma le giuro che basterebbe già applicare pedissequamente la legge perché si potesse ottenere, perché si possa ottenere di più per l'assistenza ai pazienti a qualsiasi livello e in qualsiasi ovviamente setting. Poi gli sforzi li abbiamo fatti tutti, devo dire anche la regione Sicilia ha fatto il suo sforzo. Una volta ogni tanto dico che in questa regione abbiamo veramente delle cose buone, raccontiamocelo e diciamole, ce l'è giusto Marisa. La regione Sicilia permette un'assistenza domiciliare con le Ollus e che le posso garantire che anche in zone come il Nord Italia in cui tanto si dice che fanno sempre cose migliori di noi. Però le devo dire che in questo la regione Sicilia ha il suo vanto per avere fatto lavorare le Ollus che ovviamente è chiaro che ci sono delle cose che vanno migliorate ma le Ollus in tutta la Sicilia, in tutta, ecco scusatemi non è stata solo la Samo ma tutte le Ollus che si possono chiamare in un'altra maniera abbiamo coperto un buco non indifferente. Ci siamo, siamo presenti, non ci siamo come vorremmo, non riusciamo ad arrivare a tutti, tutti per esempio per la carenza di personale. E questo è un problema della sanità in generale, questo è un problema che si dedica alle cure palliative. Anche in ospedale manca il personale che si dedica alle cure palliative però lo dobbiamo dire, grazie alle Ollus la regione Sicilia assiste buona parte dei pazienti che si trovano nella fase terminale della loro vita. Bene, dottoressa Cutrella, dal suo punto di vista ci sarebbe qualcosa che si potrebbe fare a livello legislativo in più o qualcosa che si potrebbe in ogni caso ottenere applicando la legge in maniera più così ampia? Allora su questo devo dire la verità, non entro nel particolare appunto nel legislativo e come diceva bene la dottoressa Rinaldi, il concetto è dare più informazione perché dare più informazione ci consente di poter applicare ecco bene quello che già abbiamo di esistente perché per essere applicata la legge è applicata, non è conosciuta da tutti, è il servizio che non è conosciuto da tutti perché di contro con le ASP almeno delle quattro province siamo sette in Sicilia, siamo tutti enti accreditati quindi diciamo che già è stata istituzionalizzata questa tipologia di attività. Ovviamente è la mancanza di conoscenza, c'è tanta gente che come dicevamo prima resta da sola, anche negli ospedali stessi, gli stessi medici specialisti perché dobbiamo precisare una cosa importante, noi non abbiamo solo gli oncologici, abbiamo i non oncologici di altre patologie, quindi le faccio un esempio al di là di tutto quello che di bellissimo abbiamo detto finora e che è la realtà perché noi lo facciamo da 26 anni, da 28 anni questo lavoro e conosciamo bene tutto quello che sono sia i processi burocratici, le attività ma conosciamo anche i sentimenti che sono rimasti dentro di tanta gente che ancora oggi ci ringrazia. Ma detto questo dobbiamo focalizzare tutta questa tipologia di attività secondo il mio punto di vista su una cosa importantissima, noi abbiamo aiutato tanta gente come pazienti a non morire in ospedale, soprattutto nei pronto soccorsi perché nella categoria dei non oncologici, perché da qualche anno ormai seguiamo i non oncologici, quindi tutto questo abbiamo anche le persone, una fascia di persone molto anziane, ovviamente fare avanti e indietro dal pronto soccorso è un grandissimo stress per il paziente stesso, per la famiglia, ma diciamolo è anche un costo per la sanità, perché l'accesso di un pronto soccorso di una persona anziana che possibilmente ha bisogno solo di essere accudita nella maniera corretta a casa, tutto questo è fondamentale anche per la sanità in generale, in questo modo si evitano le corse sfrenate ai pronto soccorsi e ribadiamo il concetto che abbiamo detto prima, il paziente a casa sua, nel suo letto seguito bene, in tutto questo noi non è che operiamo da soli, noi collaboriamo anche con i medici di medicina generali, perché poverini da soli non possono affrontare tanti assistiti, tante patologie, tante conoscenze, tanta disponibilità, anche loro sono pieni di burocrazia, quindi lavorare bene sul territorio, su quello che è proprio la conoscenza come le dicevo prima, un coordinamento generale, una diciamo informazione maggiore, questo aiuterebbe tantissimo proprio l'attività di territorio. Perfetto, io spero che con questa trasmissione noi siamo riusciti ad informare chi ci segue sull'esistenza delle cure palliative, sull'esistenza delle Ollus che si occupano delle cure palliative come la Samo Ollus che è qui rappresentata egregiamente per raccontarvi che ci sono queste opportunità, c'è questo sviluppo della sanità, questa importanza, questo paziente che diventa il centro e viene accompagnato, saperlo è importante perché attraverso queste Ollus si può ottenere quell'aiuto di cui forse volte abbiamo bisogno ma non sappiamo di poter ottenere. Grazie a Gaetana Rinaldi e a Maria Luisa Cotrera della Samo Ollus, grazie a voi che ci avete seguito in questa trasmissione, vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo Talk Sicilia, arrivederci. Grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori,